Luca aveva messo su qualche chilo. È normale dopo i 50. A essere sinceri, non faceva mai esercizio e non stava attento alla dieta. Ha fatto gli esami del sangue, come ogni anno, e il dottore gli ha detto che il livello di zuccheri nel sangue era alto. Aveva il diabete tipo 2. Ha iniziato una dieta salutare e bilanciata, con meno carboidrati e maggior controllo sui cibi dolci e sui grassi. Inoltre ha iniziato a fare esercizio regolarmente, a poco a poco, giorno dopo giorno, sempre di più. Nella successiva visita di controllo, vittoria! Il suo livello di zuccheri si era abbassato. Alla fine, Luca ha capito che tenere la malattia sotto controllo dipende da lui. Tieni il diabete sotto controllo. Dipende da te.